Salve ragazzi, ben ritrovati qui sul canale, oggi sono in giro perché voglio tentare qualche scatto macro stamattina sono stato qui di buon'ora, ho fatto un paio di scatti con la prima luce del sole con la brina e l'umidità, non sono stato fortunatissimo perché la luce non era proprio stupenda come la cercavo io però sono riuscito a tirare fuori qualche scatto interessante poi sono stato occupato, adesso sto tornando di nuovo qui perché vorrei sfruttare la luce del tardo pomeriggio quindi adesso se vi va vi do qualche dritta, vi do qualche spunto interessante per fare scatti più belli e colorati alle orchidee selvatiche e poi vi faccio vedere alcuni scatti che ho fatto stamattina, più quelli che faremo adesso insieme quindi ci vediamo dopo la sigla, se vi va con subito un piccolo trucchetto molto molto interessante, quindi non mancate una cosa che mi chiedete spessissimo nei miei video è come fare a ottenere questi sfondi super colorati beh, basta cercare i punti giusti dove trovare, sia orchidee che fiori io ad esempio mi trovo in questo punto che trovo molto molto bello qui in particolare nascono diverse specie, ovviamente sì, non si accavallano mai le specie solitamente sono due o tre che nascono più o meno negli stessi periodi in questa zona in particolare nascono molto le bertolone explanate sono quelle che ho fotografato molto stamattina adesso vi faccio vedere il perché scelgo questa zona e come aiutarvi a fare scatti migliori cambio un po' la prospettiva, quindi state attenti allora, muovo il display così vi vedo meglio anche io allora, guardate questo bellissimo prato, non so se vi rendete conto quanti fiori colorati ci siano quindi abbiamo fiori rosa, ce n'è qualcuno giallo nel mezzo ci sono anche questi blu, qui ce ne sono altri blu tutto questo crea un colore, un contrasto ma se qui in mezzo nascono anche le orchidee, il gioco è fatto vi faccio vedere qui ci sono delle bertolone explanate qua ce ne sono tre, qui ce n'è un'altra, qui ce n'è un'altra, qui ce n'è un'altra quindi se scegliete soggetti che nascono in mezzo a questi prati pieni di fiori diventa più semplice andare a ottenere sfondi colorati se volete invece isolare al meglio il soggetto e non avere tutti questi fiori, tutti questi punti di colore nei vostri sfondi, ovviamente cercate altrove solitamente nei prati aperti, come in queste zone qui, ci sono più fiori mentre nelle orchidee che nascono sotto gli alberi, come in quel caso lì, lì sotto ci sono altre specie lì è riuscita a fare degli scatti con colori molto più tenimi delle volte quando c'è la luce giusta, addirittura quelli che nascono nella bordura riesco anche a gestirli e avere questi fiori qui dietro magari colorati di sfondo molto molto lontano ma sono casi eccezionali e si fanno solo con focali molto molto lunghe ma tendenzialmente se andate a cercare orchidee sotto gli alberi avrete diciamo coloritemi senza punti di colore vivaci se cercate nelle radure come in questo caso qui è più facile trovare soggetti che siano circondati da colori, dei fiori e quindi ottenere sfondi molto molto colorati come è successo ad esempio nello scorso video quando vi ho fatto vedere lo scatto della lactea ma adesso che vi ho dato questo consiglio pratico su come ottenere sfondi colorati direi di iniziare a scattare partirei con alcuni scatti che ho fatto stamattina con la prima luce del sole e io mentre cerco punti buoni per iniziare a scattare invece qualche scatto più pomeridiano sono qui inoltre anche perché sto cercando un paio di ibridi che lo scorso anno ho trovato qui in modo fortuito e che però non sono riuscito a fotografare bene perché purtroppo era una fine fioritura adesso dovrei essere in anticipo quindi dovrei trovarli a uno o due fiori massimo quindi andiamo a cercarli e iniziamo subito a scattare anche a questi ibridi particolari tra due specie di orchidee e quindi andiamo a cercare più o meno ci siamo questa è la composizione vorrei includere altri colori ma ci sono alcuni elementi di disturbo e non mi permettono di spostarmi più di tanto quindi scatto questa e vediamo cosa esce fuori mentre osservavo questa piccola stazione di bombiliflora ho visto questa più alta ho notato subito che era diversa si tratta di un ibrido bombiliflora per vertoloni explanata non l'ho mai vista non l'ho mai fotografato quindi ne approfitto la situazione è un po' complicata perché lo sfondo è molto vicino ovviamente non posso disboscare tutto quindi mi sto aiutando con la focale molto lunga dell'irix 150 ma poi voglio provare anche col canon 100 per vedere la differenza stesso soggetto ho cambiato ottica si tratta dell'rf100 come vedete il bokeh è molto diverso essendo lo sfondo abbastanza vicino ovviamente qui è un po' più nervoso lo sfogato rispetto all'irix non so quale vi piace di più io li gradisco entrambe ditemi voi magari quale che preferite se lo scatto questo con il 100 o quello con l'irix 150 se lo scatto questo con il 100 o quello con l'irix 150 oggi alla pelle è presente anche la lunulata questa è al primo fiore ne ho trovato un paio con due fiori ma diciamo che stanno iniziando adesso e niente porto a casa questo scatto mi sembra abbastanza buono lo sfondo è ricco quanto basta sto scattando con l'RF 100 mm e niente faccio questo scatto e se riesco faccio anche una comparativa con il 150 bellissimo ibrido ho piazzato due ombrellini bianchi perché il soggetto era parzialmente luce mentre lo sfondo era completamente scuro e diventava praticamente illegibile questo è un ibrido tra Bartoloni Explanata e Garganica si merita un buon scatto la luce non è affatto male c'è un farettino led che dovrebbe un po' smorzare le ombre sul soggetto faccio questo scatto più ampio e poi faccio un focus stacking per lo scatto ampio sto utilizzando il mio Irix 150 mm macro sono a tutta apertura e poi per lo stacking probabilmente passerò al Canon RF100 che mi permette di fare focus stacking più velocemente che mi permette di fare più o meno ci siamo questa dovrebbe essere la composizione devo correggere la messa a fuoco sullo sfondo ce n'è un'altra e poi tutto il resto è molto molto lontano come vedete il bokeh che si viene a creare è molto molto bello sto scattando con l'Irix 150 adesso vi mostro un altro ibrido molto particolare che ho beccato lo scorso anno e che non vi ho mai mostrato intanto vi faccio vedere i genitori qui c'è la Ofris lunulata eccola qui piccolissima con questo labello molto stretto e allungato e questa macula ha forma di luna solitamente poi può variare leggermente qui abbiamo una passionis e qui abbiamo l'ibrido tra lunulata e passionis questo si merita uno scatto fino all'altro giorno circa tre giorni fa era ancora tutto chiuso adesso addirittura ne sono due parti questa ancora si sta aprendo infatti il labello non ha ancora preso la sua forma originale mentre qui si è già ristretto con più parvenze di quello del papà o mamma chiamolo così della lunulata quindi questo si merita uno scatto ho montato su l'X650 visto che qui c'è tanta vegetazione vediamo se riesco a scattare in questa direzione e qui ho cercato di sfruttare un po' la luce cerchiamo di portare a casa questo scatto dai la prospettiva è questa qui c'è un po' di luce del tramonto ma abbiamo tutto coperto dagli alberi e poi ci sono i cespugli quindi questo è il massimo che riesco a tenere è comunque sufficiente ma visto l'ibrido e che è abbastanza raro da trovare si merita comunque questa foto ho aggiunto un paio di lucette LED uno che illumina leggermente in controluce il soggetto per far risaltare i bordi dell'abello e uno qui in primo piano che illumina praticamente qui davanti vedete? era troppo oscuro se lo levo è così se metto il faretto è in questa maniera questo è più o meno lo scatto che sto portando a casa spero vi piaccia grazie a tutti il sole basso è molto molto radente come vedete illumina quell'albero lì sotto in fondo e si iniziano a creare quei colori che piacciono a me molto molto caldi quindi ne approfitto per fotografare questa Bertoloni xplanata grazie a tutti ultimo scatto guardate che sfondo questo albero è illuminato dal tramonto tanti fiori rosa ovviamente e qui c'è una bella lunulata che spicca al centro direi che il punto di vista è molto molto buono e scatto prima che la luce vada via l'ultima luce è andata via ho sfruttato al massimo tutto l'intero pomeriggio come vedete c'è un bellissimo tramonto dietro di me che illuminava prima quell'albero lì che vedete nello sfondo che faceva da sfondo qui alla mia orchidea avete visto lo scatto avete visto un po' il backstage vi ho fatto vedere questo posto spettacolare con tutti questi fiori colorati che mi ha permesso di fare scatti sicuramente più belli adesso al tramonto perché come vi dicevo anche qui si illumina in modo particolare e niente sono soddisfatto tra l'uscita di stamattina di un'oretta massimo e quella di oggi pomeriggio di un paio d'ore credo di aver portato a casa anche parecchi scatti e penso tutti buoni quindi ditemi voi che avete visto il video fatemi sapere cosa ne pensate soprattutto supportate il canale condividete il video lasciate un like lasciate commenti mi aiuteranno a far crescere il canale e condividere questa passione con voi ci vediamo presto come al solito qui sul canale con un altro video in natura e ovviamente su Instagram e Facebook con tutte le mie foto naturalistiche ci vediamo ciao ciao ragazzi alla prossima ciao